eccoci qua il nostro cantiere prosegue dalle ultime immagini come vedete è cambiato un po ci sono un po di novità c'è anche un po di confusione ma sicuramente a breve verrà tutto riordinato questa è la nostra grande sala dove faremo anche fly yoga siamo entrati da un un ingresso che in realtà non è l'ingresso principale ma è un ingressino secondario questa è la nostra sala qui c'è magazzino dove se tutto buio non si vede ma permetteremo tutti i nostri prezzi questo è il nostro ufficetto questa diventerà una porta blindata che sarà l'accesso è questo qui è il nostro ingresso lungo corridoio primo spogliatoio non sappiamo ancora se sarà dei maschietti delle femminucce secondo spogliatoio che se non sarà dei maschietti sarà delle femminucce e di qua due bagni buissimi perché adesso non c'è la luce avviene una bella libreria con tutti i nostri libri di yoga di subacqua il nostro monitor e questo qui il corridoio visto dall'altra parte insomma manca ancora un po ma già tra qualche giorno inizieremo a vedere un po di colori e il nostro ambiente cambierà aspetto vi aspettiamo presto ciao a tutti